ciao ragazzi grazie di essere con me oggi allora questo video è un pochino improvvisato ho voluto approfittare del fatto che pioveva e c'erano i tuoni per provare c'era un video di inaudible con un po' di suoni con i pluvietti e con un po' di trigger quindi sarà un po' inaudible visto altri suoni si sentirà un pochino di traffico è perché ho voluto lasciare la finestra aperta perché possiate apprezzare anche la pioggia però il... ovviamente ha smesso di piovere quindi questo video sarà un video di inaudible whispering ve l'avete chiesto tantissimo 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 di fare un video di inaudible con questo microfono qui per chi non fosse esperto di questo tipo di video questo appunto nel video l'avete letto la parola inaudible questo in inglese significa inaudibile quindi voi non capirete ciò che dirò in questo video quindi questo video è fatto apposta per farvi sentire il suono delle parole senza però capire ciò che dico quindi sì sarà normale che voi non capirete ciò che dirò lo sottolineo perché ci sono tantissime persone che sotto i video di inaudible mi scrivono parla più ad alta voce perché non si capisce questo video è fatto apposta così allora detto questo oggi andrò a fare un pochino di tapping un pochino di suoni con i blue head accompagnato da un inanutibor e penso andrà a leggere un libro a caso chi parla della storia di romano si chiama scimpione cioè si chiama bana di scimpione l'africano ok cominciamo con un po' di semplicissimi noti magari solo con qualche leggerissimo scratching sul microfono allora il voto è più molte persone dialogano con loro di amico comunque anche chiamato nel luogo dove sono fatte tutta la società anche per il tecolo e lo farò sentire magari ogni giorno anche nelle occasioni più stravaganti e per mantenere faccione che le altre giudicerebbero supponenti trascurabili ma questi campi si esprimono e si sotto forma di meditazioni con canzoni interlocazioni viti, brevi eccetera per lo più scorrono tra sé e fermi e lì a essere lontano e tra le regole per i tipi di stagione salvo che avvengono le cose che sono le cose sono fatte con le cose che le cose che sono apportate e le cose che si riferisco con tutto l'accello di tipo o dell'atto intermediario o dell'olio interpellato non si inserano qualche sfacciata a questa gente la gente le sarà di solito un critico scetticismo o una paziente neutralità che per un tempo non è una modalità di ammirazione o inesplicita ai figli e quando i soggetti in questione li mostrano contatti cioè come è successo che una fazione che per qualcuno è più grande e per loro potrà poterli e per loro poterli raggiungere quelli e per altri risultati risultati potremmo di complessità di reazione di dubbore e gli altri sentimenti più meno contraddittori tutto tutto il mondo di complessità di dubbore e gli altri sentimenti più meno contraddittori di circondizionata diciamo di un intervento che rispondeva al loro prima colmere di più costumati presenti di colloquio direttamente con Giove Capitolino non mancava di sottolineare il visto soprivilegio costumati però di colloquio direttamente con Giove Capitolino e non mancava di sottolineare il visto soprivilegio mostrando se pienamente compreso ogni volta di vestito in modo proprio attuale mancola se non portasse nell'opera di gloria dove si presumiva che leggiata la presenza di comunità di i cani denti più istituiti istruzzi e guardi dei tesori oltre non sempre vicini a notte quando una che avvele questo che non cosa si avvicinavano a di notte alle sagrate lascevano passare i sciampioni dimentiché qualche bimbe un po' convinta qualche cosa di incertare questo è molto stupibile, lo stesso tempo che ti diamo per vedere l'incredibile preferimento al costato mio sovrò e naturalmente mi andavo a sospettare quelle pesticide consapevoli fossero tenuto un comportamento da una posizione di vigilante pervenuto per gli aerei e le loro pendule vecchie non lo scoccio, 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 non lo scoccio volevo approfittare per fare un'altra posizione adivisuale, che era scuento che ti srumpo un'altra posizione di triccara, per l'altro punto di l'ultimo rupturato e volevo provare a capirlo, per l'altro mi occupo di questo periodo di colore con il giorno, il giorno, il settembre, l'intenzione, il giorno e i spos che si piangono molto molto perché mi alzano a stare a capire molto vicendo per questo camera da peggio non lo scoccio perché a me piacerebbe farlo in modo bello sulle lente, così come si fa tutto e farlo ancora una volta piacerebbe farlo in modo bello sulle lente, così come si fa tutto senti di fare con questa relics perché queste lente, non ti consiglio proprio di sempre per aver riscattato a metterlo a farlo e quindi è l'unico di sempre e allora ancora è forte in questi giorni sicuramente il primo adatto però che è una mia della mia che comunque sono rinuita e sono fatto quella di questo pubblicare dei video sono stati punti liberi, molto importanti come spettacolo e quello che diciamo è che diciamo che l'ho applicato un poco direi che è una parte di video che è una compilation e poi ho pubblicato un video che ho girato un po' in tempo fa e poi ero riuscita a ricavare proprio mezz'oretta per l'isola sera per girare i video però non avete sentito fatto che sia veramente veramente contento di poter registrare i video più calmi adesso perché facciamo davvero tanto metterlo qui e quindi spero che 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 quello che ha fatto che questo è un problema per quanto riguarda il supporto, ho fatto un filo, ho lavorato durante il piano perché sono veramente sotto ciò che ho fatto almeno che ho fatto molto bene perché ho lavorato durante, ho lavorato durante diciamo anche che sono riuscita per un punto di inverno con un piano di canale cosa che non lo sciogliono? ma lo so le cose le costo direi con quella insassita e quale è il problema quello che ho avesso prima? di aver perso la di aver perso la di aver perso la di aver perso il concetto di aver perso il tuo lavoro di pensare comunque come prima cosa di avere la precisione e di aver guardato il canale comunque soprattutto naturalmente questa parte è molto molto perso questo concetto questo mi ha portato tutto indietro a quegli studi e l'ho portato anche qua una una lettazione di Stano una lettazione di cui non riesceva a capire cosa volevo fare mi ha voluto anche comunque non toccare il libro per un po' di tempo questo sicuramente non è positivo e comunque io mi ha portato a vedere la laurea proprio con una coppia di diota è quasi impossibile perchè i pranzi sapremmo di non farcela e se questi video invece mi abbiano non sono riusciti comunque a rendermi il libro perchè ho fatto un lavoro che adesso è molto grande perchè sicuramente perchè sicuramente può sapere facile però è un canale di tutti sicuramente comunque ma ti prende tutto il tempo che è nella giornata però è sicuro che ti prende ti prende nel modo di ricaventare sicuramente così tutto il tempo di ricaventare tutto il tempo che mi possa consigliare l'uomo del tempo con l'uomo del canale in un punto che si concilia quando sei veramente concentrato sull'università sicuramente non puoi essere tanto concentrato sul canale tra qualche parte ti togli l'attenzione perchè essendo tutte e due sono comunque le attività che richiedono un certo tipo di concentrazione e un certo tipo di predisposizione di quelle attività nel senso che comunque devi essere nel mondo non puoi essere nel mondo contemporaneamente di due cose di questo tipo e quindi ho sei in uno se nell'altro come vedete cittadina anche che qua mi sono lasciata indietro di esami di cui tra virgolette avevo paura avevo paura di non non riuscire a farli quindi sicuramente mi sono resa un po' ricordo di difficile però mi ha piano ho superato la paura non ho risa conto che ce la potevo fare che anche io non è grato di laureare che comunque anche se ho un po' ritardo mi sarebbe potuto le arrendere sicuramente non è facile la medizzazione non è stato facile perché ho fatto un percorso facile ovviamente non è stata riuscita a fare questo lavoro su di me prima non ho prego ho perso meno tempo e perdonatemi se questo video sarà un pochino più corto degli altri effettivamente ne rendo conto però purtroppo ho deciso di pulso di registrare questo video non tenendo molto il fatto che agli vuori ci sono tante persone che comunque vivono vanno casa vanno in macchina ci sono le campaniche su insomma non è che mi trovi lì tutto finito solo perché diciamo che non è proprio l'istante l'ideale per giuramente sicuramente però adesso è arrivato il momento sapete molto di parecosa è il momento di abbassare le lecli quindi io sono pronta ad augurare una buona 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 buonanotte buonanotte mi salvitora con i pasticcini di sabato d'oro davanti a questa piccola fantattica sul fatto che c'errebbe dolchissimo appunto poter fare un pigiama pasticcino che dovrò fare il pantalettato sarebbe troppo carico troppo buccioso chi lo sape così meglio potrò riuscire a fare una cosa anche con il pigiama tipo di pile sarebbe stupendo stupendo e quindi gli occhi ora saranno subito saranno subito saranno subito saranno subito gli occhi fai peso tranquillo fai peso fai peso sull'intorno 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 preziosa che diventa un bacione sull'intorno 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 perché sicuramente in quei fatti ci sarà sempre qualcosa che andrà degna di essere messo tutta la vostra giornata ve lo giuro ve lo assicuro a volte le giornate che si prospettano più brutte diciamo vi mando un abbraccio buonanotte 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 che lì si vera buono ci ci Grazie a tutti